Giancarlo Di Mauro, il nuovo presidente di Confindustria Foggia, lo ha eletto oggi l'Assemblea degli Associati Riuniti al Formedil. Altissimo il quorum, riportato nel voto a scrutinio segreto, con 888 voti su 898 espressi, 10 le schede bianche. Intensa la partecipazione delle aziende che si sono costituiti in rappresentanza di 906 voti su circa 1200 esprimibili. Di Mauro, nato a Sansevero 65 anni fa, è imprenditore nel campo delle energie rinnovabili. Succede a Gianni Rotice ed è il ventitresimo presidente della storia di Confindustria Foggia. Eletti anche i quattro vicepresidenti, Daniela Circello, gruppo a Decco, Alfonso De Pellegrino, Amgas Blu, Maria Teresa Sassano, internazionalizzazione, e Alessandro Vallo, del gruppo Leonardo, cui sono state già conferite specifiche deleghe operative. Ai quattro neoeletti si aggiungono i due vicepresidenti di diritto già eletti, Michele Gengari, presidente della piccola industria, e Rocco Salatto, presidente dei giovani industriali. La squadra del nuovo presidente si completerà con la nomina del responsabile del centro studi, già preannunciata con la conferma di Michi De Finis. L'assemblea ha anche rieletto Eliseo Zanasi, presidente onorario. Nel corso dei lavori che ha fatto registrare la partecipazione di numerosi presidenti di Confindustria della Puglia, della Campania e della Basilicata, sono intervenuti il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, e il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, quest'ultimo in collegamento in videoconferenza da Roma. Con l'elezione di Giancarlo Di Mauro e della sua squadra si conclude la fase di reggenza straordinaria, affidata ai due past president, Zanasi e Biscotti, cui è toccato il compito di ripristinare le attività associative attraverso la ricomposizione di tutti gli organismi interni, come da prescrizioni dettate dai vertici confederali nazionali.